IMS è sempre vicino a te. Per tutelare la tua salute, i servizi IMS sono disponibili al telefono e online. Tramite call center, dal sito e con l'app, con lo sportello mobile, con il nuovo sportello telefonico provinciale o di sede. Puoi anche richiedere l'invio della certificazione unica direttamente a casa. Continuiamo a garantirti regolarmente tutte le prestazioni, anche se per un po' saremo lontani. Restiamo sempre al tuo fianco.